A 10 chilometri dalla vetta, Coppi è tornato ad essere il solitario dell'oltre 2000. Qui siamo addirittura a oltre 2750 metri. La neve si misura non più a centimetri, ma a metri. E lui, Fausto è l'esile gigante che staglia l'aria col suo profilo a gusto. I suoi giovani tifosi adesso possono spegnellare con sua valderia. Lavorano a regola d'arte. Nella tappa della poteosi, le strade sono tutte un'ino. Fausto, sei grande, ti vogliamo sull'ele. Grimpa, traduce liquido l'asfalto in acqua che suda tossine dai muscoli e sale. Danzando a rumba la fatica, tornante dopo tornante. Che cosa tiene avvinti all'aria? Cosa dei suoi polmoni ispira? I pedali sono il cammino, la vetta è nelle gambe. Le gambe conoscono il destino. Immaginate un paese che di anno in anno cambia i confini e si muove. Grazie. 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 Grazie.